Per arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio conferiti in violazione del regolamento comunale, il Comune di San Giovanni Tiatino ha voluto potenziare i servizi di controllo e tutela ambientale a difesa del territorio e lo ha fatto scegliendo di istituire con delibera del Consiglio Comunale la figura professionale dell'Ispettore Ambientale. Formano le finanze che da oggi, come deterrente, come controllo, come tutela del territorio, entra in funzione questa bellissima figura di guardia ecologica, una figura che dovrà controllare il territorio, dico dovrà perché purtroppo ci sono tanti in adembienza da parte di cittadini scorretti e mi congratulo con quelli corretti. Quindi, siccome il territorio è da proteggere, è da usare con cautela, con parsimonia, con voglia di viverla e non di distruggerla, questa guardia effettuerà i controlli come suo dovere e mi auguro di no, ma se occorre punirà chi sgarra. Dico qui che non voglio multare, ma se le multe vengono fatte non verranno tolte, perché è giusto che sia così, chi sbaglia paga e chi sporca paga. La Guardia Ecologica avrà anche il compito di dare informazioni ed educare i cittadini. Giustamente, ma non solo la Guardia Ecologica, siamo noi che da oggi, ma come abbiamo sempre fatto e faremo, ci teniamo a informare i cittadini su quelli che sono gli usi e le abitudini e giustamente la salvaguardia del territorio. Ci tengo a citare che noi siamo stati premiati qualche giorno fa, Comune di Comune Riciclone, abbiamo avuto un risultato di circa il 68% che mi auguro di oltrepassare al più presto e questo avverrà grazie a voi tutti i cittadini. Ricordo, abbiamo una piattaforma ecologica, siamo invidiati da tanti altri Comuni di Mitrofi, sfruttatelo, usatelo, fate in modo che questa bella struttura sia utile così come per quello che è stato creato, quello di rendere un Paese più tranquillo, più pulito e più decoroso. Grazie. Grazie.